Siamo alla vigilia dell'ultimo appuntamento della pre-season, che è stata comunque intensa, quindi è un torneo che ci permette di testare quello che di buono abbiamo fatto fino adesso. È sicuramente un torneo impegnativo, con delle squadre competitive. Il primo appuntamento sarà con Atene, quindi sicuramente una squadra di livello internazionale. Sarà per noi un vero banco di prova prima di inizio della stagione, visto che siamo agli sgoccioli e quindi siamo carichi, pronti. Andiamo lì con l'idea di sistemare alcune cose. su che abbiamo lavorato magari in settimana e capire anche il nostro livello. Il mese di lavoro è stato molto positivo. Abbiamo affrontato diversi temi, anche se abbiamo dovuto affrontare un paio di infortuni. Sicuramente è stato impegnativo, la squadra ha lavorato con la giusta intensità, ma dobbiamo insistere su questa strada perché per noi sarà fondamentale approcciare il campionato con il massimo impegno e massima intensità e voglia di dimostrare quello che valiamo. Quindi sicuramente il precisione è stato impegnato su questa cosa qui. Potremmo trasformare poi queste buone vibrazioni e portarle in campo. Grazie. Grazie. Grazie.